Musica Un incendio divampato questa sera, mercoledì 30 maggio intorno alle 20, in un alloggio situato al secondo piano di una casa in via Giuseppe Giaccona a Venere Reale. Il vicino di casa ha visto il fumo uscire e coraggiosamente ha sfondato la porta, preoccupato che all'interno fosse in difficoltà la signora che vi abita per poterla soccorrere. Fortunatamente la donna non era in casa. All'altato 112 sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Venere a Torino, il 118, i carabinieri e il tecnico comunale. I vigili del fuoco hanno domato e spento l'incendio. Valutazione in corso sull'agibilità dell'alloggio, così come sono in corso gli accertamenti sulle cause. In quel momento era scoppiato un forte temporale, tanto che il tuono aveva spaccato i vetri di una casa vicina. Non si esclude però il momento che invece possa essere divampato all'interno. Di fatti a bruciare sono state la cucina e forse la cappa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.